I vigili del fuoco allertati dai residenti sono intervenuti nel quartiere Provvidenza a Caltanissetta per il crollo del tetto, un forte boato che ha fatto spaventare parecchio gli abitanti del quartiere del centro storico. Fortunatamente non ci sono stati feriti o danni a cose, ma la situazione nel quartiere sta diventando sempre di più allarmante, così come ha detto padre Lovetere al nostro microfono la scorsa settimana. Le case abbandonate sono troppe, sono gonfi a causa delle piogge invernali, sono delle bombe pronte ad esplodere, abbiamo paura a camminare tra i vicoli, bisogna intervenire al più presto.